Freestyle, a cappella, non importa, ci mancava mia sorella a fare la prima parte Quando arrivo sai che prendo e volo su Marte, anche il bambino, vedi che balla Non importa, sì, non ci sono, passa la palla della mia testimoniazione Quando arrivo sai che porto la presentazione come un proiettore Proietto idee al buio come... Oh, ah, ah, proietto idee di luce al buio come un proiettore Sì, sì, ah, ok Quando arrivo io non contare le ore, ok Oh, c'è? C'è, oh Ok, facciamo esplodere una bomba Ah, boom Questo è dedicato ai nostri amici politici Ah, ah, oh C'è qualcuno che ci vuole bene Che ci ama per quello che siamo anche se sbagliamo E che crede in noi anche se noi gli crediamo Che prepara per noi tutto quello che viviamo C'è qualcuno che ci vuole bene Non è la spiritualità che si incrocia col potere Non è l'uomo che fu padronito della religione Puntando tutto sul terrore, tutto sulla perdizione E creano eserciti dicendo di proteggerci Fedino in mano ad un sistema malato Poi mettono le mine e fanno saltare in aria bambini e bambine Justificandosi dicendo poi Ho fatto tutto questo in nome di Dio Cosa vuoi? Tu sei un peccatore Maledetto tu sia per ogni tua cattivazione Pure per questa canzone Pure per questa canzone Del cazzo Pensate a tutti quei bambini che stanno morendo in questo momento Questo lavaggio del cervello Su di me non è effetto Puntate a creare Plotoni di coglioni Gente spenta davanti alle televisioni Marica ha poco più di dieci anni Marica non ride più come gli altri Bambine correte e parliamo tutti col prete Ma non raccontatele che le vostre favole Piuttosto venditi e seguire nuove regole Senza guerra non si può arrivare alla pace Lo dice pure il frate Ed il tempo qui è finito per ascoltarvi Ora il prete deve andare a prevedire le armi Oh Indergetta Oh Che cosa sta facendo Non vedi che sono poco più di un bimbo Potrei anche essere suo figlio Non prendi un grilletto Butti quel fucile maledetto Sì Non butti nel centro Oh 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 Qua è quando muore una persona che succede quasi a tutti Ah Oh Oh Che cazzo Pensate a tutti quei bambini che stanno morendo in questo momento Questo lavaggio del cervello Su di me non è effetto Puntate a creare Plotoni di coglioni Gente spenta davanti alle televisioni Brrra Se Oh Giusto Oh 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 Le vecchie televisioni erano a RGX Pensate un po' voi Che cavolo stanno creando E non è il resto